La Nemesi. La Nemesi è un concetto antichissimo, una sorta di vendetta che arriva dall'alto, dal divino, e che tende a portare o riportare un equilibrio restituendo al malfattore, a chi ha compiuto un crimine, quanto aveva fatto in precedenza. Appunto, una vendetta, una vendetta dall'alto che punta a rimettere le cose in pari. Si invoca la Nemesi in tanti casi, qualche volta anche a sproposito. Lo si fa, ad esempio, quando un ladro viene derubato a sua volta del bottino, o quando un assassino viene ucciso da qualcun altro. Sono quei concetti che riportano l'equilibrio in quello che, per gli orientari, è il karma. Ma si può parlare di Nemesi quando un criminale, divenuto militare e rimasto a lungo impunito, viene ucciso non direttamente dalle sue vittime, ma da chi ha conosciuto il terrore per causa sua. Lascio a voi decidere se sia il caso o meno di parlare di Nemesi. La nostra storia inizia nel cortile di una prigione, il 7 giugno del 1945. La guerra in Europa è finita da un mese, sta continuando invece nel Pacifico, ci vorrà ancora qualche settimana. Ebbene, cosa accade il 7 giugno del 1945? In una prigione in Germania, la prigione di Althausen, gestita dall'esercito della Francia Libera, nelle cui fila ci sono diversi soldati cechi e polacchi, dopo due soldati polacchi con un uniforme francese addosso, si recano in una cella, la aprono, ne stragano, abbraccia il prigioniero. Questo detenuto è un detenuto un po' particolare, ancora addosso l'uniforme con cui è stato arrestato, una uniforme da Oberführer delle Waffen SS. L'Oberführer era un grado intermedio tra quello di colonnello e quello di generale di brigata, senza equivalenti nell'esercito comune. Questo detenuto è un uomo magro, media altezza, cranio piuttosto forte, con una calvizia incipiente, con gli zigomi abbastanza sporgenti, i capelli radi. Non ha neanche 50 anni, ne dimostra forse un po' di più, sarà per la barba in colta, sarà per lo sguardo, chi lo sa. Ebbene, questo detenuto viene fatto sollevare e gli viene detto di seguire i guardi. Pensa che venga portato a un interrogatorio, forse un trasferimento a un'altra prigione, chi lo sa. Le due guardie lo accompagnano nel cortile della prigione di Althausen, Ma quel cortile non è vuoto, c'è tanta gente, parecchia gente in quel cortile. Gente emanciata, punta, mal ridotta. Gente che però, nonostante abbia poche forze, riesce a brandire nelle mani dei pezzi di legno, dei paletti che sono stati scardinati da una vicina palizzata. Quel prigioniero, quell'uomo che fino a quel momento si era mantenuto abbastanza calmo e tranquillo, sbarra gli occhi di terrore. Ha capito che è una trappola. Implora i due soldati polacchi di portarlo via da lì, di riportarlo in cella. Chiede di non fargli fare quella fine. I due soldati polacchi lo prendono di peso e lo gettano in centro del cortile, quasi in pasto a quella folla emanciata ma inferocita, che inizia a bastonare a morte il prigioniero. E' questa l'orribile fine di un orco, un orco dalle fattezze umane, un mostro, un uomo il cui nome aveva significato terrore per buona parte dell'Europa orientale. Un ome che rispondeva a Oscar Dirlewanger. Oscar Dirlewanger era stato un soldato, un soldato regolare. Si era ruolato nell'esercito imperiale tedesco durante la Grande Guerra. Era stato congedato e al termine del conflitto era entrato a far parte dei Freikorps, quei timutissimi corpi paramilitari, che dopo la fine della Grande Guerra si erano posti una missione, quella di schiacciare, soffocare nel sangue ogni tentativo socialista o comunista in Germania. Ebbene, nei Freikorps Dirlewanger aveva trovato a lungo tempo una nuova ragione di vita, finché non aveva deciso di abbandonare anche quel mondo, di tornare a studiare, laurearsi e poi diventare lui stesso un insegnante. Si potrebbe dire una vita qualsiasi di un tedesco qualsiasi dopo la Grande Guerra. Ma c'è un problema con Oscar Dirlewanger, perché sotto sotto cova un fuoco, ed è il fuoco di un vizio terribile, nel 1934, quando per la prima volta viene arrestato. Arrestato perché i genitori di una sua allieva di appena 13 anni lo hanno denunciato per violenza sessuale nei confronti della figlia. Dirlewanger, che in quel momento aveva una promettente carriera nell'insegnamento, aveva anche preso la tessera del partito nazista che da poco era arrivato al potere in Germania, viene incarcerato. Non basta il passato bellico a scagionarlo o a diminuire la portata delle accuse. No. Per due anni Oscar Dirlewanger è in prigione e quando esce è un uomo trasformato. Innanzitutto non ha più un lavoro. Oltre ad avere un lavoro, ha la fedina penale sporca. Stanno tutti ora delle sue inclinazioni. E in più si dedica all'alcolismo. E dopo aver bevuto, molesta un'altra ragazza. In men che non si dica, Oscar Dirlewanger varca non più i cacciari della prigione, ma quelli di un KZ, un concentrazione all'agar, un campo di concentramento. Già perché il regime nazista, di cui lui aveva preso la tessera ma che lo ha disconosciuto, non vede di buon occhio gli stupratori. Insomma, sembra che Oscar Dirlewanger debba diventare un palia per il regime nazista. Se non che avviene qualcosa. Perché proprio in quel periodo, un suo vecchio compagno dei Freikorps, di nome Gottlob Berger, che ha lasciato il suo lavoro da insegnante di ginnastica per entrare prima nel partito nazista e poi nell'SS, ha fatto carriera nell'SS. Non solo, è diventato un pezzo grosso della criminal poliziai. La polizia criminale, la Cripo, che proprio in quel periodo sta entrando, a forza, nel Reichsicherheit Hauptamt, l'enorme marchigegno di repressione nazista a capo di Reinhard Heydrich. Ebbene, Berger un giorno, aprendo alcuni fascicoli della Cripo, si accorge di Dirlewanger. Si ricorda di lui, era un vecchio amico, un commeditone dei tempi dei Freikorps. E gli viene un'idea, un'idea un po' particolare. Ricordandosi del fatto che comunque Dirlewanger era stato un buon soldato, un buon combattente, Berger decide di parlare con il Reichsführer dell'SS Himmler, proponendogli la nascita di una sorta di reparto di disciplina, quelli che nell'esercito vengono chiamati reggimenti di disciplina, cioè i reparti in cui vengono coinvogliati i soldati riduttanti, i reintenti alla leva, i disertori, ma anche i criminali, per i reggimentarli, dargli una disciplina e andarli a combattere, sperando che possano così redimersi. Questa è la teoria di Berger. Può un criminale, peraltro recidivo, diventare un nazista vero e proprio? Può redimersi? Può trovare una redenzione attraverso una divisa? Himmler ci pensa e poi acconsente all'esperimento di Berger. Ha una condizione sola, questo esperimento non avvenga in Germania. Siamo nel 1938, la Germania non è ancora in guerra, manca un annetto. Quindi dove si può fare pratica a Oscar Dirlewanger? In Spagna. Quella Spagna che dall'estate del 1936 è incendiata da una guerra civile, da un lato la Repubblica e dall'altro i nazionalisti, di Francisco Frappo. Le fila dei nazionalisti sono irrobustite dal corpo volontario mandato da Mussolini, della forza di circa quattro divisioni, e dalla legione Congo, un corpo di spedizione tedesco, basato in gran parte su personale della Luftwaffe, ma anche personale di terra, consiglieri militari, antiaerea. Più c'è il terzio, che è la legione straniera spagnola. Lì vengono fatti coinvogliare tanti combattenti stranieri che vogliono imbracciare le armi per la causa dei nazionalisti. Ecco, Dirlewanger si ritrova fuori dal KZ e con l'uniforme del terzio addosso. Obiettivo? Combattere, possibilmente sopravvivere, e dimostrare che il suo vecchio comunitone Berger ha ragione. Ebbene, Oscar Dirlewanger emerge dall'esperienza in Spagna con un bel bagaglio di esperienze, innanzitutto tra ferite di guerra, che fanno sempre comodo, anche per avere delle decorazioni. Alcuni elogi, un paio di note di biasimo per degli episodi di alcolismo e servizio, e anche una denuncia per aver stuprato una ragazza vasca. Ma quest'ultima viene fatta opportunamente sparire dal suo fascicolo, chissà per mano di chi, se di qualcuno del terzio, o per volontà di un franchista, o magari sul suggerimento di qualche consigliere militare tedesco. Chi lo sa? Fatto sta che quando Francisco Franco entra, trionfatore, a Madrid, ponendo fine alla guerra civile nella primavera del 1939, Dirlewanger è libero di tornare a casa, decorato, acclamato, come tanti altri suoi comunitoni della legione Condor, e non solo. Soprattutto il suo vecchio amico Berger ha dimostrato che la sua teoria ha un fondo di validità. Dirlewanger ha dimostrato di poter essere utile allo Stato nazista come soldato. Allora, se ha funzionato per lui questa sorta di terapia bellica, forse può essere replicata per altri? Perché non riprovarci? Perché non dare un'opportunità anche ad altri criminali che sono nelle carceri o nei campi di concentramento? Magari comunità apposita, non dell'esercito, ma delle SS che stanno iniziando, tra l'altro a progettare la nascita di quelle che saranno le Waffen, ebbene viene creato nel breve giro di qualche mese un'unità, una specie di battaglione affidato al comando di Oscar Dirlewanger, che comprende il peggio che sia possibile pescare dalle carcere e dei campi di concentramento. Tutta gente che è stata condannata o alla prigione, addirittura alla ghigliottina, ladri, assassini, tupratori, il peggio del peggio, tutti rivestiti con un uniforme dell'SS e affidati a Oscar Dirlewanger. Il compito di quello che verrà chiamato Sonderbattalion Dirlewanger, cioè battaglione speciale Dirlewanger, è quello di controllo del territorio e repressione. Il primo campo, diciamo così, non da addestramento, ma d'applicazione, è la Polonia. Il primo settembre del 1939, la Germania nazista attacca la Polonia e dà il via alla Seconda Guerra Mondiale. Alle spalle delle truppe regolari, della Wehrmacht che combatte sul campo e conquista terreno con una velocità impressionante, chiamano le prime squadre dell'SS, tra cui proprio il Sonderbattalion Dirlewanger, che diviene in breve molto celebre, tristemente celebre, perché gli uomini del battaglione speciale rapinano, saccheggiano, incendiano villaggi, uccidono sommariamente chi capita. È una scia di sangue e di terrore quella che lascia dietro di sé questa unità non del tutto regolare, ma comunque tollerata. Queste lamentele che arrivano sempre di più, non solo dai Polacchi, ma anche da alcuni ufficiali della Wehrmacht che sono disgustati da quello che vedono o da quello che arriva sotto forma di rapporti sulle loro scrivanie. Queste lamentele arrivano fino alla sede del governatore generale, Hans Frank, al castello di Wawel, a Cracovia. Sono lamentele piuttosto pesanti. I soldati regolari non vogliono essere accomunati Oscar Dirlewanger ai suoi macellati. Così, in breve tempo, dopo che è scattata l'operazione barbarossa, cioè l'invasione dell'Unione Sovietica, il battaglione speciale Dirlewanger viene spostato a Est, in Bielorussia, e anche qui, vanno liberati. Nel giro di poco tempo, gli uomini di Dirlewanger, anzi i criminali di Oscar Dirlewanger, distruggono tutto quello che trovano. Con la scusa di voler snidare i partigiani, sono ben 200 i villaggi che vengono devastati, distrutti, incendiati, rasi al suolo, e sono decine di migliaia le vittime del battaglione, civili, inerni, uomini, donne, vecchi, bambini. Non si fa distinzione, non fa differenza. Tutti vengono massacrati. A questo punto, ormai Dirlewanger è diventata una celebrità, celebrità molto sinistra delle sue vittime, ma molto apprezzata dal regime, che, visto il relativo successo di questa unità molto particolare, decide di ampliarne le fila. Da battaglione si passa al reggimento. Sono oltre mille uomini. Un reggimento che, fino alla primavera del 43, resta nelle retrovie. Ma, dopo la sconfitta di Stalingrado, e con la prima puntata offensiva dell'Armata Rossa verso ovest, si ritrova, improvvisamente in prima linea, a sorreggere lo sforzo del gruppo d'armate centro di contenere la controoffensiva sovietica. È chiaro che un reparto, presuntamente militare, ma che non ha il giusto addestramento, a volte nemmeno il giusto equipaggiamento, e che dunque, impreparato alla guerra moderna, debba subire forti perdite. Ed è così. Il battaglione viene decimato, perde oltre il 60% della propria forza, prima di essere ritirato dalla prima linea, e mandato in retrovia a rimpolpare la propria fila. Come? Ma sempre attingendo reclute dalle carceri. Che siano carceri militari o civili, poco importa. L'importante è che siano sempre criminali condannati. Non viene cambiata la natura. Viene, semmai, aumentata la sua forza, fino a diventare sostanzialmente una brigata. Arriva a contare 3.000 uomini, tanti, dotati di armi leggere e anche un po' di armi pesanti, anche armi anticarro. Dirlewang era un'altra grossa occasione nell'estate del 44, quando tra la fine di luglio e i primi di agosto l'armia Krajova, l'armata nazionale polacca, i patrioti del generale Bor si rivoltano contro i tedeschi e danno via a quella che viene chiamata la rivolta di Varsavia. Una rivolta che durerà alcune settimane. I polacchi vedono l'arrivo dei sovietici, che però si attestano sulla vistola e non oltrepassano il fiume, come un segnale, la possibilità di passare alla riscossa, di liberare loro stessi dal loro capitale in vista di una nuova avanzata dei sovietici e un arrivo degli alleati. C'era una mossa sbagliata, strategicamente, perché Stalin non li vorrà aiutare e Churchill, che vorrebbe andare in loro soccorso, non avrà la possibilità di portare loro nemmeno del materiale. Ebbene, i tedeschi reagiscono in maniera spietata, brutale, contro i polacchi che hanno usato a sollevarsi. Se l'esercito impiega qualsiasi mezzo, persino i mostruosi mortai giganti Karl Gheret, per demolire interi palazzi o interi isolati, ebbene, dopo i bombardamenti, è mano libera a Dirlewanger e ai suoi uomini, che possono entrare nei quartieri di Varsavia, muoversi fra le macerie e abbandonarsi a qualsiasi efferatezza. Massacrano chiunque, chiunque capiti al loro tiro, chiunque. Quella che era una rivolta per la libertà diventa un bagno di sangue. E la repressione che viene operata da Dirlewanger è così efficace che l'alto comando tedesco spedisce i suoi uomini anche in Slovacchia, qualche mese dopo, quando la stessa Slovacchia sta cercando di sganciarsi dall'asse. Anche lì, altro massacro. Sono così alti, tra virgolette, i meriti, sempre tra virgolette, che Imler in persona premia Dirlewanger con il grado di Oberführer, come dicevamo, un grado intermedio tra colonnello e brigadier generale. e crea nel febbraio del 1945 la 36esima Waffen Grenadier Division dell'SS. Cioè, il vecchio battaglione speciale Dirlewanger diventa una vera e propria divisione delle Waffen SS. Una divisione su cui però Dirlewanger può contare per appena un giorno, il tempo di essere ferito, contro i russi. Al suo posto si insedia il Brigadeführer Fritz Schmedes, già suo secondo in comando nonostante avesse un grado a lui superiore. Schmedes inizialmente doveva essere solo un consigliere militare. ma quando Dirlewanger viene ferito decide di prendere le redini di quella divisione così scalcinata e che comincia a perdere i pezzi con un intero reggimento che decide di ammutinarsi, massacrare il proprio comandante e scappare e portarla verso ovest. Schmedes sa benissimo che i sovietici se mettono le mani sulle SS siano quelli dei campi di concentramento o le Waffen non fanno distinzioni, ammazzano. È una vendetta. L'unica speranza per quel reparto è andare verso ovest e arrendersi agli alleati sperando in un po' di clemenza. Nel frattempo Oscar Dirlewanger è ricoverato in ospedale. Si deve curare. Il 4 maggio del 45 con la guerra che sta ormai per concludersi Oscar Dirlewanger abbandona l'ospedale. Si rimette la divisa e si arrende ai francesi. È convinto Dirlewanger che i francesi gli useranno clemenza. Magari spera che non abbiano mai sentito il suo nome o quello del suo reparto. Non ha fatto i conti Dirlewanger sul fatto che tra i francesi ci siano tanti polacchi e tanti cechi tanti boeni. Gente che ha sentito parlare di lui dei propri connazionali magari dei propri familiari che sono sopravvissuti. Gente che ha un conto aperto un conto che dovrà essere saldato col sangue e che verrà saldato col sangue quel 7 giugno del 1945 in quella prigione in quel cortile da un gruppo di sopravvissuti ai campi di concentramento polacchi, ebrei, cechi, slovacchi gente che voleva prendersi una rivincita. Il problema nasce proprio con la morte di Dirlewanger sembra strano ma come tutte le leggende anche la leggenda dell'orco nazista sopravvive sopravvive al vero orco perché ci vorranno anni per ammettere la morte di Oscar Dirlewanger. I francesi dovranno riesumare il suo corpo sepolto nel cortile di quella prigione far eseguire una perizia dentistica all'epoca gli esami del DNA ancora non erano disponibili per sfatare la leggenda nera dell'orco. Già perché in tutto quel periodo dal 1945 fino alla fine degli anni 50 Oscar Dirlewanger viene avvistato un po' ovunque è il suo fantasma che aleggia c'è chi dice che si sia travestito da Monaco e sia tornato in Spagna approfittando magari di qualche vecchio militone del terzio che lo avrebbe protetto. C'è chi dice che in realtà si sia unito a Otto Scorzini il re dei commandos dell'ASS o che sia fuggito in Argentina attraverso la rete odessa. C'è addirittura una testimonianza inverosimile eppure a lungo creduta vera. Secondo cui Oscar Dirlewanger sarebbe stato avvistato al Cairo in Egitto mentre beveva del succo d'arancia assieme a degli ufficiali egiziani discepoli di Gamal Abdel Nasser e alcuni scienziati tedeschi che si sono recati in quel paese per collaborare al programma missilistico di Nasser. Tutte leggende tutte leggende nere che spaventano come quando si cerca di terrorizzare i bambini dicendo loro di comportarsi bene altrimenti l'orco verrà a portarseli via. Con l'orco Dirlewanger è esistito davvero la leggenda nera su di lui è stata vera. Le leggende nate dopo la sua morte sono servite solo ad aumentare l'aura di terrore che lui in vita aveva sparso su mezza Europa. Ancora oggi in tanti villaggi della Polonia della Slovacchia della Bielorussia dell'Ucraina i più anziani ricordano il nome Dirlewanger è un nome che gli fa tremare è un nome che gli ricorda un periodo di violenze di saccheggi di incendi di esecuzioni sommarie l'uomo che era diventato un orco Dirlewanger era un orco un orco non come quello delle favole no un orco umano al capo di una banda di massacratori quando si dice che a volte la storia imita l'arte è anche il caso nero triste dolorosissimo di uomini come Oscar Dirlewanger di uomini